La battipagliese ha ufficializzato il tesseramento del calciatore Edmondo Campione. Nato a Battipaglia il 20 agosto 1987, Campione è un attaccante che ha vestito le casacche di Virtus Avellino, Polisportiva Santa Maria, Battipagliese, Calpazio, Trentinara e Baratta Battipaglia. Speravo tanto in questo ritorno, ha affermato al momento della firma, e ho fatto di tutto affinché ciò avvenisse. Spero che il mio innesto sia positivo per la squadra per continuare a fare bene e cercare di raggiungere i playoff che sono l'obiettivo che si è imposto la società.